Salve onorevoli, eccoci qui in un nuovissimo episodio, siamo su A Plague Tale Requiem, settimo capitolo, I criminali, e inizia così. E tu chi cazzo sei? Ah no, è quello che ci ha dato la spadata sul cranio, porco Giuda. Ugo di merda che ti fidi sempre delle persone sbagliate, cazzo. Ugo, porco Giuda, ma secondo te com'è possibile che una persona ti prendi, ti do una barca, ti porto sub l'isolo, ti faccio anche un pompino? E per noi avevamo un chien, ma non lo vedo molto. Perché non potevamo andare? Sì, allora ho pensato che abbiamo giunto insieme. Lui è... Sì, quello che ha dato la spadata sul cranio. Ma che cazzo ti riaddormenti, testa di cazzo? E così è nata una nuova amicizia, fammi capire. Non, 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 non. Ma perché ora è nostro amico? Non posso dire che la tua voce non è niente. Arrata di giocare, è difficile. Non ti è successo. Molto bene. Allora dìmo, perché sei tornato? Perché non mi hai lasciato morire? Dìmo, perché ti fai confiazione? Perché non dovrei lasciare i rai me debarrassare di te una volta. Il comte ha lanciato un'armata contro noi. La racaille di Provence. Beaucoup di miei, miei amici, sono stati tuati. O ci sono stati. Tant o tardi, i finiront par m'avere anche. Allora ti vuoi fuir? Sì. L'étao si rosserre, ma hai la solution. L'era. Il modo più sicuro di esagerare alla mezza che mi cura dopo. Io so dove trovi il vostro rile. Tutto ciò che devi fare, è mantenere la vita fino a ciò che ci siamo. Amicià, vieni! Vieni a voi! Sì, arrivo! Io non mi fido per un cazzo. Fai molto attenzione. Questo mi ricorda a ogni instante che io farò meglio te tuer. E come sempre i mercenari fanno una parte più triste e in caso finiscono nel momento... Diciamo, finiscono nella maniera più triste in un esercito. Ebbene, sento i capelli e... Oh, signor! C'è io, questo? Non! Sì, sento le alghe! Allora, vieni! Attendi! Dobbiamo parlare! Non adesso! La mer è proprio là! Hugo! C'è importante! Puttana troia! Hugo! Ho spero che tu non l'hai detto per i tuoi rêvi e per tutto il resto. Hugo, arrivi! Porco Giuda Hugo ha già mi cagato il cazzo! Io non riesco... In un episodio non riesco a dirti che sei utile. che il giorno dopo Giuda è cagato il cazzo. Oh. Cosa? Una contrabandiera? Bimbo di merda, stai zitto! Oh, questa è una buona attitudine. Questa è una buona attitudine. In realtà non ha detto che quella è la mente giusta, che quella è la giusta attitudine. che poi è comico, perché lui in armatura riesce a correre più veloce di te, amica, è un problema. Poi correre sulla sabbia è pesantissimo, eh, anche se non sembra. c'è una buona attitudine. è una buona attitudine. è una buona attitudine. è una buona attitudine. è una buona attitudine. Ah, ma lui segue noi. ok, cazzo, veramente dobbiamo andare là sotto. E qui si può aprire per curiosità. Cosa mi ha tirato uno scatolo? Ecco qui quello che mi interessa. Ok, resina. Ben venga, ma io devo continuare per la spiaggia o... non ho un'idea di che cosa dovrei fare, mi perdono. Non c'è motivo di farlo, ma lo faccio. Ok, non voglio. Via, 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 Ugo. Andiamo a girare via da quello stronzo. Non lo so perché... Ok, lui ora fa tutto il simpaticone, l'amicone, ma non ha senso. Cioè, tu non spacchi il cranio una bambina e poi dici... Beh, cazzo, però effettivamente... Non è che spacchi il cranio una bambina e poi dici... Vabbè, ora è la mia nuova amica. Ah, la piuma. Di qui posso salire... Ah no, è merda di piccione quella. Gabbiano comune. Ehm... Socevole e chiesoso si versa abitualmente in gran numero dove sono presenti due editorali aperti e di grande importanza per marinaia e naufraghi. Chi sente il suo richiamo sa che presto vedrà la terra ferma e sarà di nuovo a casa. I racconti popolari rappresenta il legame materno. Sognare un gabbiano indica un addio doloroso alla madre, mentre trovare una sua piuma significa libertà ed emancipazione dalla famiglia. Ok. Liberiamo questa roba allora. Ok. Non possiamo semplicemente prendere il pesce e ipoteticamente buttarlo lì, no, eh? Ah! Doucemente, d'accordo? Sì! Toghile... Il t'obbeis vraiment? Come? Come tu fes ça? D'où ça te vient? S'è fait! Allons-y, allora. Ivo... Ivo... Ivo vuoi a noi suivre, eh? Je sais pas. Tu ti trouva appetissant, toi? Mmh... Sal morfale! Ehm... Sans vouloir vexer petit gars. Ok, ora continuiamo con la barca. Ah, oppure dobbiamo andare dietro la barca. Vabbè, effettivamente ripassa più segreto, l'ho pure detto. Non, in realtà non lo sape, eh? Seigneur, je n'aime pas ça. Ok. Quoi? Ils sont des millions? T'es content? On passe quand même. Parfait. N'y a pas peur. Sans blague. Eh, petit gars. Il t'obbeis? Balance-les tous dans la mer. J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Ah, excellent. Eh! C'est quoi ça? Tu l'hai utilisé contre mes hommes? De l'alchimie. Recette secrète. Je me fiche de la recette tant que ça marche. Tu veras. Ok. C'est quoi, fabbrichiamo l'altro. Ritorniamo la fionda. Così, eh? Possiamo prendere l'alcool. E avanziamo. Non credo sia una bella idea prenderlo, perché se lo prendiamo, credo molto probabilmente si scalerà contro di noi. Ok. Vai. Andiamo. Perchè di andare di là. Vediamo cosa c'è di qua, appunto. Porco Giuda, questo alcol di merda, eh? Fatemi un attimo scendere, giusto per osservare meglio che cosa c'è. Ma potrei prendere la corsa, giustamente. Pure io. Sono stupido. Possiamo prendere la fascetta e portarla giù. O. 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 Guardi. Le grotto continuano da qua. Voilà il nostro paio. Ok Non è una bella idea Il fatto che ti stiamo insegnando questo Perché cioè Come stiamo esculando una cosa Molto importante E cioè il fatto Che i regni potrebbero avere I loro servizi segreti Quindi non potrei scudere Che lui è Una spia che ci sta seguendo Per apprendere E usare queste cose contro di noi Oh no Qua? C'è qua ça? C'è Annie Oh non mi dici pas Che dobbiamo andare là dentro Eh sì Non dovremmo C'è ça O non restiamo Un chariot Ok Ma che cazzo era? A molla Comunque vi ripeto Non escluderei Che il nostro amico Faccia parte dei servizi segreti Ripeto Comunque abbia un doppio scopo Per seguirci Ok Ok No non posso nemmeno comandarlo Devo pure spingerlo io Allora Respira un grosso Ony va Ça va être vraiment horrible Amicia Même le petit est terrorisé là Tu es sûr de toi? Troppo No non posso girare il visuale Perché sennò Sterza E purtroppo non riesco nemmeno a vedere che cazzo succede C'è quoi cette chose? J'en ai la chair de pool Il fabrique ça Avec les choses qui les attrapano Comme des gens J'en ai la chair Tutto bel materiale organico Ah Ok C'est l'enfer qu'on mérite tous Je veux que ça s'arrête On ira à la cuna On t'soirà C'est de la folie Fin troppo pazzesco Par ici je pense Attention Sai che bello si ora uno cade Arnaud è quello che ha l'armatura più pesante in fondo Oh merde Attends C'est merdant On va voir De la lumière Viva Attends Attends Je m'en charge Voilà Oui Putain De saloperie Ça va Pas de morsure Je vais bien Sauf que je suis coincé ici Et qu'il me regarde comme une tranche de viande rottie Hugo On devrait partir maintenant Quoi? Pourquoi? Il est dangereux Toi aussi Et moi encore plus Mais on a besoin de lui Eh J'ai besoin de vous ici Je Bon Très bien Amicia regarde Les cristaux jaunes De l'épi sanguisce L'épi sanguisce Tu as raison Tu as raison Elle est revenu Arnaud Ah Enfin C'est cristaux jaunes près de toi Casse dans un bout Et envoie le moi C'est bon Je suis prêt Ok Vai butta amigo mio Vai Que mira Ça ne marchera pas tout seul Je peux rajouter quelque chose De quoi rendre ça volatile Du salpetre peut-être Ah Mica Inizia A imparare Quelle basse De la versione Voilà De l'autorisme Essayons-le Ok Mentre introduce Anche un coso Di Arnaud Tu vois ce point Surélevé Avec la manivelle Quand je fais bouger Les rats Tu fonce là-bas Oui Si tu le dis Eh Ok Che apri un passaggio D'Arnaud Però Non Crep Non Rare Puto N'idea Per L'ambe Eh Vai Cazzo Significa Il terreno Sembra instabile Terreno Sembra instabile Ah Ma li devo attirare Dall'altra parte Cazzo Ma dimmelo Mocco giù Da pure tu Eh E poi C'è figlia di puttana Voleva lasciarlo Lì Mezzo ai ratti Ok 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 Vai Arnaud Occupe-toi de ça En avant In tutto questo Mi è venuta una follia Io lo posso Teoricamente Posso caricare Il po' sotto qui No Ok Ora è pulito Sì funzionava così Che cagata Comunque Che cazzo urli Che ti sei accanto Che ti sei accanto Già Il buclier Qua Ma il va brilare Il ha vraiment l'air De s'ensoucier D'accord Je vais faire Ah Mi è tolto tutti gli oggetti Va bene Avevi paura che gli mettevo Un dardo Del cuoso Ok Speriamo Non sarei così Non sarei così E' strano Perché Perché Lui tutto bello Simpatico Divertente Ide brillanti Ci pura Ci sta vicino Perché Spero che non succede Come la cazzata Innocence Che ogni Cristo Che incontravamo Diventava magicamente Nostro amico Quindi Posso recuperarlo Sei stronzo Mi serviva il dardo Ok Questa è la famosa Barca del trailer Se ricordo bene Però era anche Sommersa di là Equipaggiamento Ok Se no Vabbè Che ricarica più veloce Non me ne prega niente Onestamente Maggior numero di dardi Invece Ci può essere utile Questo invece È micidiale Cioè Potremmo usare La palestra Di infinito Ok Arno Procediamo E come passiamo Amica mia Amici Ti fai venire Qualche brillante idea Te ne prego Io non voglio usarlo Questo Non è che ora Me l'hai dato Me lo puoi usare In 30 salse diverse Seriamente Ma guarda un po' che bello In che senso Soldato Ok Accendilo ora Vai 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 Marcia Marcia amica Marcia Marcia Prendi Veloce 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 Aia Arno Arno Porco giù D'Arno Sei un testa di cazzo Cioè Arno Camminando tranquillamente Passiamo Noi ci mangiano Allora ragazzi Allora Più serenità E audacia La prossima volta Ok Ok Eppure tu amica Che cazzo domande fai Non ho capito Ok Dammi il fuoco Ok Bastone Incendie Corri da quella parte Però potremmo salire lì E effettivamente Ok 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 Apri Dai amica Ok Brava ragazza Scala F Come lo faccio aiutare Salvato come Ho premuto solo F Non so nemmeno Cosa ha fatto Wow Il est grand ce bateau Eh T'as trouvé des traces de pas Psst Rien Tu crois vraiment qu'il y a encore quelqu'un avec tous ces rats Cachez vous Des soldats Regarde autour de toi Cet endroit est un foutu labyrinthe Écoute Si on ramène un ou deux contrebandiers morts Le comte nous récompensera Oui Des soldats Je m'occupe d'eux Non Laisse moi faire Toujours pas confiance en moi Vas-y alors C'est à dire Ok Facciamo il più possibile Per tenere il più materiale possibile Scendiamo qui No 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 Amica Tesoro mio Eva puttana Avvisami che i ratti salgono Che cazzo Potremmo Avvicinare il perso Di quel simpaticone Così evitiamo di sprecare risorse Ok Perfetto Abbiamo quasi tutto Diventare di nuovo pieno Vieni 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 Faccio la sorpresa di Pasqua Adieu No Amica Ma che cazzo Ok Quindi possiamo scendere di qui Ora Perfetto E possiamo Teoricamente Ripeto Vai avvicinati se le palle Vieni Dai Seriamente Ecco Sì effettivamente la spinta Gliela può dare Che culo Esattamente quello che volevo Grande ragazzi Grande Giove Ma no Dai Era perfetto Era così Perfetto Hai rovinato tutto Perfetto Adieu Perfetto Perfetto Abbiamo sistemato Quest'altra cosa Ora Scendiamo qui Apriamo qui E possiamo Tirare giù Questa roba Dai Dai ci hai visto Vieni 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 Dai che mi hai visto Dai Vieni Stronzo E' proprio quello che voglio Amica si testa di cazzo Ok Buon appetito Raton Effettivamente questa parte Potevamo evitarla Ok E che cazzo Correte Vi volete far Veramente mangiare Che idea di merda Che abbiamo avuto A passare di qui Ok Ok Se però è invece di usare il coso Aspetta Dai ragazzo Oh e vieni Che due coglioni No ci serve questo Mi vedi Dai Bravo Buon appetito Spero che tutti i ratti Convergano lì No non riescono È troppo vicino Che due coglioni Io ti speravo di economizzare Vieni che ci conviene Più buttare una roba simile Vai sprechiamo altra roba Tanto io so stronzo No Porca puttana eh Amica Porca puttana Se mi fai ricominciare Sulla barca Mi incazzo Cazzo Siamo sulla barca Di nuovo Seriamente Ah mi hai fatto passare All'altra parte A gratis Va bene Apprezzo il gesto Ok Assali Ok Ce lo mangiano loro Se io ora butto Meti sanguinisse Tipo Qui Un altro qui Mi fate passare ora No Manco per il cazzo Mi fanno passare Sono nati strozzi Porco Giude mi fanno incazzare Questa roba Perché io sono avaro E mi piace mantenere la roba Sempre Veramente il trucco Fin dall'inizio Era semplicemente Mantenere un attimo No Perché Perché io sono Stronzo Perché sono Stronzo Ad ogni modo Signori Viramento del tempo Tirannoci Perché Al prossimo episodio Stronzo 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 Stronzo